Iniziativa questa mattina a Taranto, questa volta nel Borgo, c'è un gruppo su Facebook che sta davvero spopolando e ha voluto sostenere in questa occasione e per l'intera giornata odierna l'Ant. Il gruppo Facebook Sedi Taranto Sè, nato da un'idea di Vincenzo Pirlo, tarantino di nascita che vive a Milano da circa 20 anni, conta attualmente su 24.000 iscritti. È possibile trovarvi post relativi a fotografie di Taranto, eventi, frasi e detti in vernacolo, aneddoti popolari e storia della città, insieme a varie iniziative. Tra queste, una manifestazione a sostegno dell'Ant, Associazione Nazionale Tumori di Taranto, che si occupa di assistenza domiciliare ai malati oncologici per tutta la giornata di domenica 27 aprile in Piazza della Vittoria. Un'iniziativa che si svolge grazie all'Ant e grazie soprattutto ai sostenitori che ci hanno permesso di creare il gadget che stiamo donando stamattina. Quindi chi vuole può avvicinarsi a questo gazebo, gazebo Ant, donare un minimo contributo di 5 euro e ricevere in cambio la maglietta ufficiale del gruppo. Perché Ant? Ant perché entra nelle nostre case. Abbiamo voluto aiutare questa fondazione perché è presente appunto nelle case di tutti noi e ci sembrava doveroso gratificarla e quindi in 24.000 ci stiamo unendo accanto all'associazione, alla fondazione, che non smetteremo mai di ringraziare perché ci ha aperto subito le porte dandoci fiducia, non conoscendoci. E' per questo che non smetteremo mai di ringraziare Luigi Alfarano dell'Ant e Maria Letizia Zavatta. E' il fondatore del nostro gruppo che è Vincenzo Pirlo che oggi 27 aprile ci sta raggiungendo finalmente a Taranto.